Buongiorno a tutti, sono Alessio Martinelli, io sono Pia Giuseppe Binetti, del team Martinelli Remax Stella Polare. Oggi siamo a Casa Massima e quello che vi mostreremo è una villa in un piccolo residence recintato. Seguiteci! Home Sweet Home, come non sentirsi a casa qui, ma scopriamolo insieme. Oggi siamo in una villa che fa della particolarità e della ricerca del dettaglio i suoi maggiori punti di forza. Assolutamente rifinita e caratteristica, questa soluzione ti lascerà incantati. Entrati nel disimpegno, possiamo apprezzare due ampi bagni e due comode camere da letto, di cui una soppalcata ed ideale come zona studio e giochi. A completare abbiamo un utile armadio a muro ed un'ottima cabina. Ovviamente poi il fiore all'occhiello e il giardino angolare che avvolge completamente questa meravigliosa villa. Visto che meraviglia! Se vuoi che questo angolo di paradiso sia tuo, contattami! Grazie a tutti!